Passiamo alla politica, un laboratorio politico-culturale, una tre giorni di approfondimenti, formazione e convegni. La manifestazione, prima le idee, è giunta alla seconda edizione, ed è rivolta in primo luogo ai giovani con l'intento di stimolarne passione e partecipazione. Il servizio di Francesco Rossi. La formazione dei giovani è indispensabile per chi fa politica, anche per chi ricopre ruoli istituzionali già da tanti anni. La formazione serve per tutti, per chi fa politica è essenziale, per chi deve lavorare è indispensabile ed è fondamentale per le giovani generazioni. Io credo che appuntamenti come questi siano importanti perché formano dei ragazzi e li abituano a stare insieme, stare insieme tra di loro, a confrontarsi e a far nascere fermenti che servono a modellare una società, una comunità. Credo che questo sia importante. E questa occasione, determinata da alcune associazioni, non solo di Andria, per cui una rete che va oltre Andria, oltre la nostra regione, ed è una piccola rete che discute anche sul web di come affrontare la modernità con idee nuove, io credo che sia importante e vadano lodati. Questo è l'elogio che faremo nel nostro indirizzo di saluto, proprio perché sforzarsi di tenere insieme i giovani è un grande lavoro. È importante che si guardi ai giovani. Questo appuntamento è già a una ulteriore edizione perché già da qualche anno ad Andria, come dal resto in tanti altri momenti durante l'anno in Puglia, ragazze e ragazzi si riuniscono per approfondire temi, per affrontare un percorso politico che richiede preparazione. Noi in una fase in cui si pensa che tutto si risolva attraverso i social network, attraverso l'improvvisazione, noi riteniamo che i mezzi moderni vadano utilizzati, bisogna essere nelle televisioni, essere nella rete, però bisogna anche formare le coscienze, avere un percorso di preparazione, ragazzi che hanno avuto esperienze nelle amministrazioni locali, che guardano al futuro dell'Italia, che non può essere condizionato solo dalla non partecipazione, percentuali di assenzione che crescono, fuga dalla politica, a volte anche comprensibile, visto tanti fatti negativi, invece noi vogliamo mantenere vive organizzazioni, radicamento, filiere di persone, rapporti comunitari, che sono la base per poi formare cittadini che possano essere amministratori, militanti, punti di riferimento, quindi c'è ancora bisogno di una politica fatta in un ambito di comunità e che però sia anche ancorata a un progetto di carattere più generale. L'antipolitica si batte proprio con lo studio, la formazione e le idee? Credo proprio di sì, la politica non si può farla soltanto in televisione, serve anche la televisione, ma serve il radicamento sul territorio, la condivisione soprattutto da parte dei più giovani, dobbiamo formare una nuova classe dirigente attraverso la partecipazione, è una manifestazione come prima le idee che è giunta alla sua seconda edizione con focus che riguardano tanti temi, dall'economia al territorio, la legalità e sicurezza, la difesa dei valori della famiglia, è fondamentale per formare i giovani rispetto non solo alla politica del futuro, ma soprattutto a essere cittadini del futuro.